Musica Covid zero casi nel Salernitano nella giornata di ieri Tutti negativi, 336 tamponi analizzati al Ruggi, a Salerno e all'ospedale di Eboli La campagna riapre le attività, le regole da seguire punto per punto Imprese e Covid, i referenti della Lega Grand, Tomasetti ed Esposito A confronto con gli imprenditori in videoconferenza Auletta riparte dal carciofo bianco, iniziata la raccolta 2020 FIBA Balneari Campania, lavoriamo a misure condivise per le spiagge Ben trovati, eccoci al nostro telegiornale Apriamo con una buona notizia Chi ha effettuato ieri i test sui tamponi nel Salernitano Avrà tirato un sospiro di sollievo, erano zero i casi positivi in tutta la provincia Si intravede la luce e bisogna continuare a tenere alta l'attenzione Su 336 tamponi analizzati dai centri di riferimento della provincia di Salerno Ossia l'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno E l'ospedale Maria Santissima Adolorata di Eboli Sono risultati ieri zero tamponi positivi Una notizia attesa ormai da tempo, soprattutto nel Salernitano Che è stata anche l'area della regione Campania colpita per prima dalla diffusione del contagio Era la fine di febbraio quando si è scoperta la positività al Covid-19 Della giovane biologa cilentana di entrata da Milano Da allora il numero dei contagi si è moltiplicato con la provincia di Salerno Che è stata particolarmente colpita, seppur si è comunque riusciti a contenere il contagio Ieri sera, a distanza di quasi due mesi dalla notizia Per la prima volta dai centri di riferimento non si registrano nuovi casi di contagio nel Salernitano Una notizia che lascia ben sperare innanzitutto perché vuol dire Che ci si avvia verso la guarigione anche delle persone che erano risultate positive Dato che per gran parte dei tamponi analizzati si tratta di persone che erano già attenzionate da tempo Dai responsabili ASL e che nella verifica è stata accertata la negativizzazione Oppure l'avvicinarsi della guarigione in attesa di ulteriori tamponi di verifica Un dato che fa tirare un sospiro di sollievo anche al Vallo di Diano Che da diverse settimane è alle prese con i tamponi di verifica di persone affette da Covid Con sintomatologia oppure di persone in isolamento che non avevano avvertito alcun tipo di sintomo Altra notizia positiva analizzando il bollettino dell'unità di crisi della regione Campania E notare come tra i 12 centri di analisi sono 4 quelli che hanno fatto registrare positivi 0 E di questi 2 sono gli ospedali salernitani di cui il Ruggi ha analizzato 233 tamponi E l'ospedale di Eboli 103 tutti negativi A cui si aggiungono il Moscati di Avellino che ha analizzato 92 tamponi E il Sant'Anna di Caserta che ha effettuato l'analisi su 72 test Risultati tutti negativi in entrambi i casi Un dato che porta la percentuale dei contagi in Campania al 2% su 2.623 tamponi analizzati nella giornata di ieri La Campania si avvicina alla cosiddetta fase 2 Il 27 aprile riprenderanno le consegne a domicilio delle attività di ristorazione Apriranno altre attività specificamente indicate Tante le regole da osservare Scopriamole nel servizio In Campania a partire dal prossimo 27 aprile Ripartiranno le consegne a domicilio da parte di bar, pub, ristoranti e pizzerie Oltre all'apertura di librerie e cartolerie Lo ha stabilito l'ordinanza numero 37 della regione Campania Che fissa anche le misure di sicurezza da osservare nell'interesse della salute di tutti Sarà necessaria innanzitutto una disinfezione dei locali Debitamente certificata ed esposta nell'attività I dipendenti dopo lo stoppo forzato Dovranno essere preventivamente visitati E risultare in salute per riprendere servizio Poi dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza Tra i lavoratori muniti dei dispositivi di protezione basilari Quali guanti e camici monouso, mascherine e sovrascarpe Per quanto riguarda i fornitori delle materie prime Questi dovranno venire in contatto il meno possibile con i dipendenti dei locali E dovranno essere stabilite fasce orarie per le consegne della merce Circa le consegne a domicilio All'interno dell'attività dovrà essere mantenuta una separazione Tra i locali di preparazione del cibo E quelli destinati al ritiro da parte dei fattorini Muniti di zaini termici per garantire la giusta conservazione del cibo da consegnare Il fattorino dovrà usare guanti monouso e mascherina Anche il cliente che riceverà la consegna Dovrà indossare guanti e mascherina in caso di pagamento in contanti In caso di pagamento in via telematica Il fattorino potrà lasciare il cibo all'esterno del domicilio La consegna potrà essere ritirata Una volta che il fattorino si sarà allontanato Per quanto riguarda le attività di cartolerie e librerie L'ordinanza indica che la presenza di addetti alle vendite e clienti Dovrà essere regolata in base ai metri quadrati dei locali Tutti dovranno indossare guanti monouso e mascherine E dovranno mantenere una distanza interpersonale di 1,80 m Nella serata di ieri i referenti della Lega Valentino Grant, eurodeputato, Arelio Tommasetti Responsabile per il programma elettorale Nicola Sesposito, coordinatore provinciale Si sono confrontati in una videoconferenza di circa due ore Con 50 imprenditori per raccogliere le loro proposte E recepirne le esigenze A portare la voce del tessuto imprenditoriale del Vallo di Viano Valentino Di Brizzi Oltre 50 imprenditori della provincia di Salerno Sono stati ascoltati ieri in videoconferenza Dai referenti della Lega Valentino Grant, eurodeputato E Aurelio Tommasetti Responsabile per il programma elettorale Per le prossime regionali Un lungo incontro a distanza Che ha permesso ai rappresentanti della Lega Di raccogliere proposte E anche per meglio comprendere le difficoltà Che chi investe per creare lavoro sui territori E costretto ad affrontare Tra i 50 imprenditori intervenuti nella videoconferenza Anche Valentino Di Brizzi Imprenditore e presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano Per dar voce al comprensorio valdianese Due ore di videoconferenza basata sull'ascolto Quale priorità della Lega Che ha consentito di poter affrontare i temi primari dell'economia salernitana Basata su edilizia, turismo, agricoltura, commercio, ristorazione, estetica ed altri Un incontro proficuo, dichiara Valentino Grant Che ci ha consentito un confronto diretto Con chi quotidianamente affronta in questo delicato periodo Problematiche economiche che sono state affrontate dal governo in modo superficiale Abbiamo raccolto tutte le istanze Commenta Grant Molte delle quali già avanzate dalla Lega nelle scorse settimane Per alcune in particolare Presenterò nei prossimi giorni interrogazioni parlamentari Cassa integrazione, IVA, IMU, mutui, prestiti, contributi, burocrazia Solo alcuni dei tanti spunti della videoconferenza Sono soddisfatto di quanto realizzato Commenta Aurelio Tommasetti Gli imprenditori colgono come sempre il nocciolo del problema Affrontando con serietà e pragmatismo Tutte le debolezze di quanto proposto da questo governo Misure inefficaci e inefficienti Che non semplificano Né sburocratizzano il sistema La Lega ha messo insieme i punti deboli Che approfondiremo poi nei prossimi giorni Il confronto di ieri sera È solo il primo step di quanto è nelle intenzioni Del segretario provinciale Nicolás Esposito La grande partecipazione degli imprenditori E l'entusiasmo durante l'incontro Dove ognuno ha potuto e voluto esprimere Le proprie preoccupazioni Commenta Esposito Ci spinge ad organizzare un nuovo appuntamento Soddividendolo per settori In modo da poter approfondire Le dinamiche economiche di ogni percorso Ringrazio tutti per il contributo dato In un momento così delicato Per il tessuto economico del nostro territorio I carabinieri della compagnia di sala Consilina al lavoro per la verifica Delle attività commerciali In materia di gestione e contenimento Dell'emergenza epidemiologica 6 le imprese multate I militari dell'arma in campo Per effettuare i controlli degli ambienti lavorativi E verificare il rispetto Della nuova normativa Che impone regole ferree Per il mantenimento dell'attività commerciale Al pubblico L'emergenza Covid Ha imposto una serie di nuove regole Finalizzate alla prevenzione E alla riduzione del contagio Da coronavirus In queste settimane In prima linea Tutela dei cittadini E per la verifica Del rispetto delle regole Sono escesi in campo i carabinieri Con una serie di attività e controlli Attività che sono state più intense In particolare nel Vallo di Diano e Tanagro Dove 5 comuni Sono stati raggiunti Da ordinanza restrittiva di isolamento Fuori dalla zona rossa Il lavoro degli uomini Del capitano Davide Acquavive È proseguito con controlli a tappeto Delle aziende autorizzate A proseguire l'attività imprenditoriale Funzionali al mantenimento produttivo Delle filiere Al fine di verificare Il rispetto dei protocolli Di regolamentazione All'interno dei luoghi di lavoro Emanato in materia di contenimento E gestione dell'emergenza epidemiologica Controlli che hanno portato All'accertamento Del mancato rispetto Del protocollo igienico In sei imprese valdianesi Operanti in diversi rami In particolare I carabinieri hanno accertato Che sei imprese Operanti nei settori Della lavorazione del ferro Aziende agricole Imprese di pulizia E trasformazione della plastica E commercio di prodotti termoidraulici Non avevano adeguato Nei luoghi di lavoro I protocolli di sicurezza Previsti dalla normativa emergenziale In particolare Difettando della sanificazione Periodica certificata Degli ambienti Della distribuzione Dei dispositivi Di protezione individuale Non rispetto Delle necessarie Distanze interpersonali Mancata sanificazione Di monitor ed hardware In genere Con adeguati detergenti Nonché la modalità Di accesso Dei lavoratori Con misurazione Della temperatura corporea Nel corso dei controlli Venivano complessivamente Elevate sanzioni amministrative Per circa 2500 euro Con la sospensione Delle attività Per cinque giorni I militari Della compagnia di Sapri Stanno consegnando Circa 50 Tra tablet E pc Per la formazione A distanza Degli studenti Dell'istituto Superiore locale Carlo Pisacane L'iniziativa Realizzata Grazie alla collaborazione Tra la dirigente scolastica E i carabinieri E' stata pensata Per concedere In comodato D'uso gratuito Agli alunni Che ne hanno fatto Richiesta Dotazioni informatiche Di proprietà Della scuola L'istituto Pisacane Da giorni Si è attivato Per attrezzarsi Garantendo il servizio A chi ne avesse Dichiarata La necessità E grazie al supporto Dei carabinieri Riuscita A far consegnare Il materiale elettronico Nei diversi comuni Dell'area Del basso Cilento Dove sono Residenti Gli studenti Evitando anche Il ritiro Presso La scuola Che avrebbe comportato Diverse problematiche Andiamo avanti Lo scorso 14 aprile Dal ministero Dell'istruzione Arriva l'avviso Che consentiva Le scuole Di adottare Modalità Di didattica A distanza Anche per i progetti PON Un avviso Che il liceo scientifico Pisacane Di Padula Ha prontamente Recepito La didattica A distanza Un nuovo metodo Di apprendimento Necessario In tempo Di covid E che per gli studenti Del liceo scientifico Pisacane Di Padula È già stata Assimilata Tanto D'aver proposto Alla scuola Di utilizzare Lo stesso metodo Didattico Per il prosieguo Dei progetti PON Una richiesta Che la dirigente Scolastica Liliana Ferzola Ha prontamente Accolto Ed ha recepito La nuova direttiva Emanata dal ministero Dell'istruzione Che lo scorso 14 aprile Dopo l'approvazione Della commissione Europea Ha confermato La possibilità Di poter utilizzare La modalità Di didattica Online Anche per i progetti Legati al programma Operativo nazionale PON Una notizia Si attese Che il liceo Pisacani Di Padula Ha prontamente Messo in campo Nel rispetto Delle condizioni Emanate dagli uffici Della commissione Europea Sono circa Cinque programmi Formativi ed integrativi Che gli studenti Di alcune classi Del liceo Saranno chiamati A seguire Nella modalità Didattica A distanza In particolare È stata accolta La richiesta A gran voce Degli studenti Delle classi quinte Che dovranno Sostenere l'esame Di maturità In loro aiuto Proseguono i programmi PON Di scienza e matematica Per garantire una formazione Più completa In vista Delle esame Di maturità Ed anche In preparazione Per affrontare I test universitari E inoltre È previsto Il prosieguo Sempre in modalità A distanza Anche dei progetti PON Di informatica Per il triennio Di scienze applicate E di italiano E matematica Riservato al bienio E per l'indirizzo Quadriennale Un ulteriore Supporto didattico Che la dirigente Scolastica Del liceo Scientifico Pisacani Liliana Ferzola Commenta con soddisfazione L'emergenza sanitaria In atto Dichiara la preside Ferzola Ci ha imposto La rimodulazione Della programmazione Didattica A fronte delle richieste Avanzate Dalle nostre studentesse E dai nostri studenti Siamo stati Tra i primi istituti A chiedere direttamente Al ministero Di attivare I PON A distanza È un'opportunità Preziosa Sottolinea in conclusione Per intensificare Le occasioni Di rapporto E scambio Indispensabili A creare Le condizioni Di una continuità Della routine Il comune di Teggiano Ha avviato Una raccolta fondi Per l'acquisto Di attrezzature E presidi sanitari Da donare Agli enti Territoriali Impegnati Nella lotta Al coronavirus Una nuova iniziativa Di solidarietà In questo periodo Di emergenza Da covid-19 È stata messa in campo Dall'amministrazione Comunale Di Teggiano Si tratta Di una raccolta fondi Attivata Con una delibera Di giunta Alla quale Possono partecipare Tutti I cittadini Imprenditori E associazioni Per l'acquisto Di attrezzature E presidi sanitari Da donare Agli enti Territoriali Che ne hanno bisogno Un'azione concreta A sostegno Dell'ospedale Luigi Curto di Polla Del servizio 118 E delle altre strutture Sanitarie Impegnate quotidianamente Nella lotta Al coronavirus Chiunque voglia Partecipare Lo potrà fare Versando il proprio Contributo Sul conto Di tesoreria Comunale Aperto Presso la banca Montepruno Credito cooperativo Di Fisciano Roscigno E Laurino Con causale Emergenza Covid-19 E un'azione importante Dal momento Che la grave Situazione sanitaria Che ha colpito Tutto il territorio Nazionale E internazionale Sta richiedendo Enormi sforzi A medici Infermieri Volontari 118 E Croce Rossa Impegnate in prima linea Contro questa pandemia Che sta portando Le strutture sanitarie Al limite Delle proprie possibilità Sia in termini Di posti letto Che di attrezzature Necessarie Alla cura Dei malati Nonché Dei dispositivi Di protezione Individuali Per gli operatori Sanitari La raccolta fondi Segue l'iniziativa Dei giorni scorsi Che ha visto L'aggiunta comunale Di Teggiano Devolvere La somma Di 4.200 euro A favore Dell'associazione Di volontariato Gopi Onlus Di Caggiano Per l'acquisto Di materiale Accessorio Alla barella Per alto rischio Per biocontenimento Per il trasporto Di pazienti Covid-19 Donata all'ospedale Luigi Curto Di Polla A Perdi Fumo È stato convocato Per oggi Nel primo pomeriggio Il consiglio comunale La minoranza Non ci sarà È quanto assicurano I consiglieri D'opposizione Francesco Pecora Giuseppe Coccorullo E Nazario Matarazzo I quali hanno comunicato Al sindaco Vincenzo Paolillo Di non parteciparvi Perché ritengono Che l'assiste Sia stata convocata In violazione Della normativa Emergenziale Relativa al Covid Il numero E la complessità Degli argomenti Previsti Nell'ordine del giorno Uniti alla conformazione Dimensioni E dotazioni Dell'Aula Consiliare Dichiarano I consiglieri Di minoranza Non consentono Il rispetto Delle regole Previste Dalla normativa Sanitaria Di emergenza Nessun argomento Di quelli Previsti In trattazione Riveste i caratteri Dell'urgenza In quanto Gli stessi argomenti Di bilancio Pur sottoposti A termine Sono stati Rinviati Al 31 maggio Pertanto Concludono Nella nota Non vi è Alcuna necessità Nelle condizioni Date Di tenere Il consiglio Comunale E noi ci fermiamo Per qualche minuto Di pubblicità Bentornati in studio Riprendiamo Il nostro Telegiornale Ad Auletta Da poco uscita Dalla zona rossa E partita ufficialmente In questi giorni La raccolta Del carciofo bianco Del Tanagro La rete Dei produttori Ritorna così Nei campi Per ripartire Dalla terra E dalle tradizioni Intanto Invita tutti A comprare E mangiare Italiano Ad Auletta E partita ufficialmente In questi giorni La raccolta Del carciofo bianco Del Tanagro Il comune Da poco uscito Dalla zona rossa E il segnale Della ripresa Arriva dalla terra Dall'agricoltura locale Dalle tradizioni La rete dei produttori Del carciofo bianco Del Tanagro Ritorna nei campi Per la raccolta 2020 Una delle migliori Dicono Quest'anno Per le limitazioni imposte Non può essere celebrato Nella consueta Kermes Bianco Tanagro In programma Dal 30 aprile Al 3 maggio Ci rifaremo L'anno prossimo Assicura il presidente Giuseppe Lupo Che intanto Chiede a tutti Uno sforzo corale Sostenere Soprattutto ora Le piccole realtà Capaci di tenere in vita Il territorio In questo momento Molto particolare Dichiara L'appello che faccio È di acquistare Prodotti italiani A chilometro zero Dai nostri contadini Nata nel maggio del 2018 La rete Dotata di un marchio unico E con un sito e-commerce Rappresenta Il filo diretto Tra agricoltori E consumatori Un bel esempio Di buona economia locale 13 consorziati Ognuno titolare Di un'azienda agricola Nel comune di Auletta Per un totale Di oltre 50 ettari Con un obiettivo E un prodotto comune Il carciofo bianco Di colore verde chiaro Senza spine Molto tenero E a tendenza dolce Un'eccellenza Della valle del Tanagro Un simbolo di riscatto Per un territorio Fortemente evocato All'agricoltura E che negli anni Si è salvato Grazie ai piccoli Orti familiari Abbiamo realizzato Continua Lupo Un sito internet Con il quale Siamo in contatto diretto Con i consumatori E anche un numero WhatsApp Con cui raggiungiamo Principalmente Chef Pizzerie Ristoranti Agriturismi In questi giorni Abbiamo lanciato Una serie di iniziative Proprio per supportare I produttori Attraverso l'e-commerce E i risultati Sono molto soddisfacenti Stiamo avendo ordini Conclude soddisfatto Da ogni parte d'Italia Dalla Sardegna Alla Lombardia Continuiamo A mangiare italiano La Federazione italiana Imprese balneari Della Campania Chiede alla Regione Linee Guida Generali Per la ripartenza Del comparto turistico E balneare Vediamo i dettagli L'emergenza sanitaria Sta mettendo a forte rischio La prossima stagione turistica E così la FIBA Confessercenti Federazione italiana Imprese balneari Della Campania Chiede alla Regione Linee Guida Generali E i punti fondamentali Del piano post-emergenza Per la ripartenza Del comparto turistico E balneare Ipotizzata Nella fase di ascolto Da parte della Regione La data del 4 maggio Per la ripartenza Ribadita anche Dal premier Giuseppe Conte Il presidente Di FIBA Campania Raffaele Esposito Ha affermato Che è giusto Aspettare le linee guida A valere Su tutti i territori E non affrettarsi Con fuga in avanti Isolate Che vanno soltanto A destabilizzare E pregiudicare Il lavoro di prospettiva Di tanti imprenditori E della relativa utenza L'appello Della FIBA Campania Va al buon senso Di tutti Nel rispetto Di quello Che le associazioni Di categoria Hanno richiesto Alle istituzioni Idee singole Non concertate Non condivise Ha affermato Esposito In questa fase Possono soltanto Aggiungere confusione E incertezza Ad operatori Ed eventuali ospiti Che forse Iniziano ad immaginare Timidamente La propria destinazione Turistica regionale E proprio per questo A livello nazionale E regionale Ci attendiamo Rapide risposte Il presidente Esposito Ha inoltre affermato Che le imprese Del settore turistico E balneare Avvertono il peso Della responsabilità sociale E che molte Stanno valutando Anche la possibilità Di restare chiuse Poiché Non percepiscono Una regia istituzionale Ben definita Siamo convinti Ha concluso a Esposito Che la vera azione Di chiarezza E uniformità Verticistica regionale Da pervenire Entro la data stabilita Possa finalmente Sciogliere i dubbi Delle imprese E contribuire A salvare parte Di questa prossima Stagione turistica Uno sportello Per fornire informazioni E assistenza Alle famiglie Si chiama Pubblica istruzione Ed è stato attivato Nel comune di Castellabate Il comune di Castellabate Ha attivato uno sportello Con funzione di supporto Informativo Guide ed assistenza Alle famiglie In relazione Agli avvisi pubblici Della regione Campania Relativi al diritto Allo studio Nello specifico Si tratta di due bandi Quello per la richiesta Del bonus per genitori Con figli minori di 15 anni Nella forma di un aiuto economico Per l'acquisto di attrezzature Strumenti informatici Ed altri supporti Di accesso ai servizi didattici E socioeducativi E per le spese relative A servizi di babysitting Dedicato agli studenti Che risultano regolarmente iscritti In una delle scuole Di ogni ordine e grado Della Campania Da inviare Sulla piattaforma dedicata A partire dal 27 aprile E fino al 4 maggio Ed è il bando Relativo alle borse di studio Io studio Dedicato agli studenti Delle scuole superiori E al quale si potrà partecipare Sempre telematicamente Fino al 7 maggio Per chi avesse necessità Di supporto Nella compilazione Nell'invio delle domande Potrà fissare un appuntamento Al numero del segretariato sociale Attivo dal lunedì al venerdì Dalle ore 9 Alle ore 12 E presentarsi Solo nel giorno E all'orario indicato Telefonicamente Nella sede di via Roma A Santa Maria Munito di sé In corso di validità Documento di riconoscimento Del codice fiscale Del genitore Che ne effettua richiesta E di un indirizzo E-mail valido Grida dall'anima La quinta edizione Del concorso di poesia Iniziativa culturale Con cui l'associazione Ragazzi di San Rocco Di Sala Consilina Intende raccogliere Le grida provenienti Dall'anima ferita Al tempo del covid In seguito Al decreto ministeriale Per le misure di contenimento E la gestione Dell'emergenza epidemiologica Del covid-19 Lo scorso 27 febbraio Anche l'associazione Ragazzi di San Rocco Ollus Ha sospeso La ventiquattresima edizione Della rassegna teatrale Di teatro in sala Proprio a metà Del suo cartellone E tutte le altre attività Previste in questo periodo La pandemia Non ha fermato La produzione creativa E artistica Dell'associazione I ragazzi di San Rocco Infatti intendono curare La pubblicazione Di un'antologia E diffondere Composizioni poetiche Nell'ambito Delle iniziative culturali Dell'associazione Ieri è stato pubblicato Il bando Per partecipare Alla quinta edizione Di grida dall'anima Un progetto Con cui l'associazione Vuole stanare i pensieri E le parole maturati Ai tempi del coronavirus Ritenendo urgente Raccogliere le grida Provenienti dall'anima Ferita in questo tempo Sospeso Una poesia Quando nasce È qualcosa di assolutamente Unico È una scarica Un richiamo Un grido Un sospiro Un gesto Una reazione dell'anima Con la quale Essa cerca di difendersi O di prendere coscienza Di un suo moto interiore Di una sua esperienza Attraverso queste parole Di Herman S Si apre il bando E si invita A partecipare Chiunque voglia esprimere Il proprio urlo In versi sciolti O in rima Con la libertà Di scegliere Composizione E tema Rispetto alle edizioni passate Quest'anno c'è una novità Si chiede infatti A chi ne abbia piacere L'invio anche Di un video Per ciascuna composizione Con tale progetto L'associazione Ragazzi San Rocco Ollus Intende inoltre Favorire la valorizzazione Di nuovi talenti Che hanno scelto La scrittura poetica Come propria forma Espressiva e comunicativa Indipendentemente Dal valore letterario Delle composizioni I componimenti Selezionati Verranno poi Come nelle scorse edizioni Pubblicate in un'antologia Il termine Per presentare la domanda È il 30 maggio 2020 Per chi desideri Avere maggiori informazioni Può trovare Il disciplinare del bando Il modulo per la domanda Di partecipazione Sulle pagine social Dell'associazione Dei ragazzi In San Rocco Ollus E sul nostro sito www.unotvweb.it Era questo Il nostro ultimo servizio Grazie per aver scelto L'informazione Di 1 TV Vi auguro Un buon proseguimento Sulla nostra rete Grazie per aver guardato il nostro